Ho scelto questo percorso perché sentivo che avrebbe potuto completarmi prima di tutto come persona e mi avrebbe dato la possibilità di aiutare in modo concreto il prossimo. Ho scelto il corso di fisioterapia perché permette di accedere a una professione, quella del fisioterapista, che aiuta concretamente e direttamente le persone, influendo positivamente sulla vita di chi ne ha bisogno. Ho scelto questa facoltà perché nelle mie esperienze di vita quotidiana ho capito quanto sia importante la comunicazione e voglio aiutare tutte quelle persone che hanno una difficoltà appunto nel comunicare. Per chi abita a Mantua, in provincia, la sede di Mantua è un'ottima opportunità per avere l'università vicino a casa, con un intero edificio dedicato solamente ai corsi di laurea all'interno dell'ospedale Carlo Poma di Mantua. Mi piace vedere l'educatore come un professionista della relazione che lavora a contatto con la facoltà. Grazie a tutti! Grazie a tutti!